Che fine hanno fatto i 22 milioni di euro del masterplan destinati a risolvere il problema dell'accessibilità agli impianti sciistici di Passo Lanciano e La Maielletta? A domandarselo sono i sindaci del comprensorio che con l'arrivo della neve sul versante orientale dell'Appennino Abruzzese si ritrovano alle prese con i soliti problemi, parcheggio in saturazione e viabilità in tilt per l'assalto alle piste d'ascine il fine settimana con la conseguente paralisi di un intero comprensorio e un danno all'immagine e all'economia del territorio. Il presidente Marsilio e la sua giunta provino a venire a Passo Lanciano nel fine settimana e sperimentino sulla propria pelle i disagi che i cittadini dei comuni del comprensorio vivono durante la stagione invernale. E' questo l'invito degli amministratori dei comuni di Letto Manoppello, Roccamorice, Serra Monacesca, Turri Valignani e Batteggio, San Valentino in Abruzzo Ceteriore e Scafa, nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella sala figlia di Iorio della provincia di Pescara. Il sindaco di Letto Manoppello, Simone Romano D'Alfonso, spiega che... Sta diventando sempre di più drammatica questa situazione perché facciamo un danno di immagine alla nostra montagna in una maniera disastrosa. Chiediamo dove sono andate a finire questi 22 milioni di euro e perché non si investono sul Passo Lanciano ma è letta. Ci hanno detto che il motivo è di una eventuale idea di parcheggio di interscambio quando riguarda il Comune di Letto Manoppello per la questione del piano regolatore. Ma se noi ancora non abbiamo il progetto, come facciamo eventualmente a fare una variante al piano regolatore se ce ne fosse bisogno? Non capiamo dove si vuole andare a parare se non forse probabilmente perché qualcuno che doveva fare non ha fatto. Ad oggi noi sappiamo che esisteva nel 2016 un progetto valido, utile per tutte le problematiche del comprensorio sciistico e ancora nessuno ci risponde se questi 22 milioni di euro sono disponibili. Gianni Chiacchia, vice sindaco di Scafa e consigliere della provincia di Pescara, ipotizza anche il danno erariale perché i 22 milioni di euro del masterplan disponibili nel 2016 con l'inflazione di oggi non hanno più lo stesso valore. L'assessore al turismo da Mario ha detto che comunque c'è già un progetto di tre parcheggi di scambio per i tre comuni, tre stati Roccamorice, Letto Manopello e Pretoro. Quindi le rassicurazioni dall'assessorato sono arrivate dicendo che entro la prossima stagione sciistica il problema sarà risolto. Il presidente Marsilio era venuto a Letto Manopello in Pompa Magna a gennaio 2023 dicendo che avrebbe risolto tutto il problema nei tempi dell'anno 2023, 2024, 2025. Vediamo. Di certo i tempi di scadenza di questa amministrazione regionale ci sono, devo sperare in una loro riconferma, non lo so se in cinque anni non ci sono riusciti, come possiamo sperare se nei prossimi anni possono fare qualcosa di utile.